L'Isis ha attaccato una chiesa ed è un'autentica strage. La violenza della CIA di Islamica torna a colpire precisamente in una chiesa del Burkina Faso, probabilmente uno dei paesi più arretrati dal punto di vista economico di tutto il continente dell'Africa. Da anni teatro di attacchi delle milizie fondamentaliste, spesso provenienti dai paesi vicino. 14 persone, diversi bimbi sono morti, altri sono rimasti feriti nell'assalto alla chiesa protestante durante una funzione religiosa di domenica. L'attacco si è verificato a Fautori, un'area già bersagliata da duri aggressioni da parte di gruppi inerroristi collegati ad Al-Qaeda e Al-Isis. Una storia, questa è una vicenda, questa che ha delle incredibili, ma purtroppo che rappresenta una realtà che di fatto deve essere vista, analizzata e accurata. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la visione di questo video di oggi, datemi le vostre opinioni, ci tendo ad averle. Un saluto caro al prossimo video da un narratore italiano.